Ciao! Allora, oggi faremo un allenamento che potrete ripetere la mattina, quindi sarà una routine della mattina, tranquillamente lo potete fare tutti i giorni se volete una bella sveglia, un bel po' di energia, ok? Direi che possiamo iniziare. Sono sette esercizi, diciamo che ci sono delle pause molto molto brevi, proprio perché dobbiamo risvegliare, ok? Il nostro fisico, non sono cose che ci ammazzano assolutamente, però sicuramente ci rafforzano, va bene? Siamo pronti? Vai, un po' di musica sottofondo. Iniziamo con il primo minuto. Quindi, quattro avanti, quattro avanti. Iniziamo, spingo, spingo, ancora. La mattina, non solo il caffè sterno, ma anche l'esercizio fisico. Iniziamo, spingo, 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 vai dietro. Ancora la rica sepoglia. Iniziamo, spingo, spingo, sterno, spingo, dipingo. Un'altra parte. Stop! Non mi porti, non mi porti, non mi porti. Non mi porti, non mi porti. Vai! Un minuto. La parte. E no! Chiudo giù. Vai! Ci sono i sottosetti, ma non mi porti al mano senza. Che sta a capire. Ci sono i sottosetti. Non ci sono i sottosetti. Non ci sono i sottosetti. Respiriamoci al caldo. Un minuto. Respiriamoci. Spira. In circolo. Vai! Ancora 30 secondi. Respirate. Vai! 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 Ancora 10 secondi. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Più più. Adesso. Un nato. Chiudo. Ol prosegui. Manno. L hacerlo. Allora dopo dopo. Tera il punto. Spira bambats. Entrere. Come la oltre atrás. Tera lilla! Super! Grazie a tutti. 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 Perfetto. Abbiamo finito. Arrivo. Direi che abbiamo tantissima energia e possiamo affrontare la giornata. Ci vediamo al prossimo allenamento. Mi raccomando, allenatevi. Ciao.